Il disco provinciale ma è molto poco provinciale secondo me, è molto ripulito, devo essere sincero, lo stile è elegante, lui è molto elegante nel suo modo di fare, è ordinato nel modo in cui si muove, quando fa i suoi balletti, non è un ragazzetto di quelli che non sanno che cazzo sta facendo, tu hai la sensazione vedendolo che tutto quello che fa è una roba studiata, invece è guidata comunque dall'istinto, per questo autentica, per questo originale, per questo il ragazzo è andato lontano subito, forte, c'ha tanti meriti, la provincia 2, la provincia 2 non è andato benissimo come pezzo per i suoi standard, perché era troppo sperimentale, troppo complesso, Adesso caro Robe cosa è successo? Che tu mi sei arrivato a fare il successo grande, quello grandissimo, quello immenso, succede che tutti ti conoscono e quando hai una nicchia sai che direzione seguire, adesso hai perso un po' la bussola, E quindi non ti resta che essere te stesso, ma ovviamente non si può fare affidamento su quel pubblico che adora Shakerando, perché Shakerando è più grande di te adesso, Quelli della curva della mia città, stanno lì a cantare, me ne vanto, sono rosetano e me ne vanto, quindi col fatto che ti è data anche una canzone di sport, perché sei arrivata alla curva di Roseto così, figuriamoci quanto è stata spinta in stadi che contengono 50, 60, 80 mila persone e tutto il pubblico te la canta, Quando accade un fenomeno del genere e succede che tu, la tua canzone diventa molto più famosa di te e quindi o rimani comunque in un qualcosa che è capibile a tutti, Altrimenti ti specializzi un po' nella tua nicchia, per questo non sono qui a parlare del brano, quello principale, quello pieno di featuring, perché quella roba lì in qualche modo sia a livello di sonorità che di attitudine cerca un po' di emulare quelle robe lì, Che però è già andato nel senso che fa parte del passato, anche se la canzone la canterà per sempre, però lui ovviamente è avanti sia a livello di discorso mentale sia a livello di tempistiche, perché quella canzone l'ha fatta tempo fa, anche se è uscita neanche da troppo tempo, bene. Quindi di conseguenza lo troviamo e lo vediamo, secondo me, autentico, originale, comunicativo in questo brano, Le Haine, che secondo me è molto molto interessante, ma al di là di quello che dice, ma da come si pone, E anche qui riesce a mixare un po' la sua forza, che lui è in grado di creare queste melodie, giocando con le parole, trasformandole, utilizzando un suo dizionario che comunque lo rende ancora più musicale di quel che è, E riesce anche a metterci un rap, che comunque col suo timbro, sembra fatto da un ragazzino, sembra Shiva, agli esordi ha anche il tono, perché l'esordi era molto più cattivo Shiva, era molto più rap, per dire, era molto più legato all'idea di rap, Però in qualche modo riesce a differenziarsi da Shiva, nonostante potresti confonderlo quando rappa, eh, bravo, riesce a confondere, perché? Perché lui ti molla comunque tra le sue cose piccole perlette, Non è come Massimo Pericolo che ti molla la verità pesante in faccia, lui ti molla piccole frasette che però sono vere, di una verità assoluta, e che comunque raccontano tutto il suo mondo, dicendo con una parola, ma racchiude, punto, tutto, il concetto, perché comunque per me Rove, quando perde un po' l'ideale, Quando perde il bisogno di esprimersi e si esprime per lavoro, diciamo, no? Come magari sto facendo io adesso, come sono costretto a fare spesso, che succede? Che il buon Rove a quel punto rischia di, appunto, di smarrirsi, come ho detto prima, invece quando agisce portando un qualcosa che sente da dentro, questo brano è molto molto sentito, E' lì che non perde di qualità, è lì che rimane, perché ragazzi, dopo che hai fatto un brano come Shakerando, a replicarlo è difficile, e che succede? Che se tu rimani su quel genere, uno, due, tre, quattro canzoni, alla quinta sei un fallito per la gente, è triste, puoi avere poi anche, vedi, Capo Plaza, tre milioni di ascoltatori, guadagnerà quindici, ventimila euro al mese, solo di royalties, fa un disco, non solo non se lo incola più nessuno, Sì, sei comunque Capo Plaza, guadagni dal tuo catalogo, sei famosissimo e tutto, però onestamente, se ci guardiamo intorno, il fenomeno Capo Plaza, da quanto tempo è fallito? Ecco, nonostante lui sia uno dei rapper più di successo, e questo, per questo adesso alziamo il livello, non parliamo solo degli artisti in base a quanto guadagnano, andiamo a vedere un attimo questa betto, l'avete fatte voi le betto, l'avete deciso voi, che sta roba qua è una guerra a chi cazzo più lungo, Allora adesso, parliamone così, eh, Rove, insomma, in questo momento c'è un cazzone enorme, ma, si sta rimpicciolando un pochino, con la Provinz 2, e con i vari tentativi di questo disco, che potevano riuscire meglio, ma, c'è un toglie che il ragazzo è avanti, Sì, avanti a tutti ancora, avanti il brutto, non è che uno si può pretendere sempre che fai lightona, anzi, fortissimo ancora, eh, Lane è la dimostrazione, vediamo, vediamo, comunque, che impatto avrà questo disco per il pubblico, Io male che me ne posso sentire tutto il disco, ho sentito un pezzo, non mi è piaciuto, ho ascoltato un pezzo, un po' mi è più arrivato, ho detto, parlo di questo, ah, cioè, comunque faccio un discorso generale, per riflette, beh, fondamentalmente, come dice Arnoyz, siamo dei coglioni che sparano cazzate al microfono.